Il progetto della metropolitana di Catanzaro si compone sostanzialmente di tre linee, di cui due sono in affiancamento nella Valle della Fiumarella, le cosiddette linee A e B, che muovono da Catanzaro-Sala e arrivano fino a Catanzaro-Lido. Questa è la fermata Catanzaro-Sala e questa è la fermata Catanzaro-Lido, naturalmente vicino al mare, in corrispondenza dell'attuale stazione delle ferrovie dello Stato, per poi proseguire da Catanzaro-Sala senza alcuna rottura di carico, quindi senza dover scendere dal mezzo, fino a Catanzaro-Centro, cioè fino a Via Milano, Pratica e Tribunale. In questo modo queste sono le linee B. La seconda linea è la linea C, che analogamente muove sempre dal Catanzaro-Centro, quindi da Via Milano, Pratica e Tribunale, per passare attraverso la fermata di Sala e ramificarsi con un tracciato interamente nuovo, che è questo che noi vediamo ora, da cui indicato in rosso, con cui si affiancherà alla fermata Campus Università, poi alla zona della cittadella regionale e quindi entrerà sui binari della nuova stazione di Germanetto, così da creare un collegamento stabile ed efficace tra parti del territorio, oggi significativamente divise da condizioni orografiche e da una viabilità di non facile percorrenza. In questo modo l'obiettivo è quello di creare un sistema che consenta di fare sentire le tante parti di cui si compone la città di Catanzaro, parti di un unico tessuto urbano ed evitare quella frammentazione che oggi viene avvertita. Aggiungo che in più quel servizio del sistema metropolitano a Catanzaro consentirà anche all'obiettivo di consentire anche una più facile fluibilità dei servizi regionali, di livello regionale, come la cittadella, l'università, il policlinico, eccetera, che trovano collocazione nell'area di Germanetto e che da un lato consentono una più facile accessibilità alla tantotenza che viene da fuori città, ma al contempo devono risultare altrettanto fluibili da chi risiede, chi ha scelto di risiedere nella città di Catanzaro e deve poter quindi arrivarci in maniera comoda.